E' arrivato il parere positivo della Commissione europea in merito ai decreti che dettano le regole per lo svolgimento dei prossimi concorsi per il reclutamento dei docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. I primi due bandi, infanzia, primaria e scuola secondaria, saranno per circa 30.000 posti. I successivi concorsi raggiungeranno il target PNRR di 70.000 unità. I provvedimenti firmati dal Ministro dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valditara erano stati inviati dal MIM alla Commissione sin da luglio e quest'ultima, dopo attento esame, li ha approvati senza alcuna osservazione. Con questi decreti, dichiara il Ministro, prosegue l'impegno del Ministero nel valorizzare il ruolo dei docenti e potenziare la formazione dei nostri studenti, fornendo loro tutti gli strumenti per proseguire con profitto gli studi universitari e accedere con facilità al mercato del lavoro. I decreti riguardano la copertura sia di posti comuni sia di sostegno. I concorsi saranno indetti a cadenza annuale su base regionale per garantire di anno in anno la copertura dei posti che si renderanno disponibili. Questo il parere di Manuela Pascarella, responsabile reclutamento FLC CGL, nel corso della diretta della tecnica Risponde Live di giovedì 26 ottobre. Noi abbiamo avuto in luglio l'informativa sui decreti ministeriali che fungono da regolamento dei prossimi concorsi PNRR. Quindi ci eravamo chiesti che fine avessero fatto questi decreti, visto che da oltre quattro mesi aspettavamo che poi dopo l'informativa e dopo il parere del CSP finalmente venissero pubblicati. Ora apprendiamo che il ministro ha firmato questi decreti, hanno avuto l'ok da parte della commissione per procedere con i concorsi e quindi auspichiamo che presto il ministero questi decreti li pubblichi, ce li faccia avere in maniera che anche noi possiamo dare ai tanti lavoratori che ne faranno, che sono interessati, che saranno sicuramente centinaia di migliaia, diamo tutte le informazioni sui concorsi che servono per capire come si svolgeranno, con quali tipologie di prove eccetera. Ovviamente tante informazioni in questi mesi le abbiamo già anticipate, la prova scritta con inquesiti a risposta multipla, la prova orale che riguarderà anche i contenuti disciplinari, quindi ci sono delle novità rispetto ai concorsi 2020. E però ovviamente la pubblicazione dei decreti è una notizia importante che ci consentirà anche di dare informazioni ai tanti docenti e laureati che sono interessati a partecipare a questi concorsi. I posti potrebbero salire oltre 40.000 grazie ai recuperi delle assunzioni andate deserte a settembre. Già entro fine anno due saranno i concorsi al via, il primo entro fine anno con 30.000 assunzioni su ogni ordine e grado di scuola compreso il sostegno, ma numero destinato a salire grazie alle assunzioni non realizzate per rinunce di candidati. Questi posti aggiuntivi dovranno essere autorizzati dal MEF e potrebbero andare dai 10 ai 14.000. A questo concorso potranno partecipare per infanzia e primaria i laureati in scienze della formazione primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso di 24 CFU conseguiti prima del 31 ottobre 2022 o di tre anni di servizio di cui uno nella classe di concorso per il quale si vuole concorrere. Per quanto riguarda le prove, lo scritto consisterà in un test con quesiti a crocette che accerterà le conoscenze in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico metodologico, ma anche su informatica inglese. All'orale, spazio alla lezione simulata. Queste le ultime tre fasi per l'avvio dei concorsi. La prima riguardante la pubblicazione dei decreti con i quali sono disciplinati i concorsi. La seconda riguardante la pubblicazione dei singoli bandi con l'indicazione delle date entro cui presentare la domanda di partecipazione e il numero dei posti per classe di concorso e per regione. La terza riguardante l'avviso con il quale è indicato il giorno e l'ora in cui ha luogo la prova scritta. Il successivo concorso sarà bandito quasi certamente in primavera. Grazie a tutti.